ragazzi io non ho parole non ho parole credo che sia veramente le live che portino sfiga al canale portino sfiga al Parma dovrei non farle più mi sa incredibile vittoria ragazzi usciamo dal Franchi ancora una volta dopo lo spareggio contro l'Alessandria di Lega Pro usciamo ancora una volta vincitori stavolta contro i padroni di casa della Fiorentina 1-0 vittoria importantissima Parma si porta 25 punti a pari merito tra l'altro con la Fiorentina e con altre 76 squadre praticamente a una partita sola dalla fine del girone d'andata sono contento ragazzi siamo quasi alla metà dei 50 punti quindi a meno 15 dalla salvezza sono stracontento una vittoria che non pensavo potesse davvero arrivare e invece è arrivata non ci avremmo messo neppure un euro veramente perché a me la Fiorentina devo essere sincero mi piace un sacco come squadra mi piace come gioca mi piace come interpretano l'azione mi piacciono dei giocatori che ha come ad esempio Veretù come Chiesa ragazzi anche oggi ha fatto un partitone mi piace proprio il fatto di interpretare il calcio della Fiorentina insomma mi stanno simpatici quelli della Fiorentina anche oggi comunque non hanno demeritato perché assolutamente secondo me si meritano almeno il pareggio per come hanno giocato però hanno trovato contro una squadra che veramente cagherà il cazzo a tutti cagherà il cazzo a tutti cioè appunto il parma ragazzi veramente siamo una squadra tosta da affrontare siamo una squadra tostissima da affrontare non è mai scontato affrontarci mai scontato meno che magari non ti chiami Napoli non ti chiami Atalanta ad esempio lì sono state partite scontatissime però comunque in generale è una squadra che dà sempre l'anima cerca comunque di dare sempre l'anima ed è difficile da affrontare una squadra che sfrutta perfettamente le 4S come ha detto il telecronista cioè saper soffrire senza subire cioè oggi è stato il riassunto della partita perché il parma se ci pensate a parte l'azione del primo tempo di Veretout con il calcio cos'era la cross in mezzo con il calcio di punizione che c'è stato un batti e ribatti poi pallone allontanato o il tiro finale di Piazza con la grande parata di Sepe tra l'altro Sepe grandissimo veramente non so più come scusarmi per aver detto che Sepe non gioca più nella vita e ho visto grande Sepe dicevo appunto non è stata pericolosissima se non in quelle due occasioni lì quindi io sono contentissimo contate che la Fiorentina secondo me ha un grossissimo problema cioè l'attaccante cioè Simeone, Meragao è inutile non mi piace non mi piace come giocatore secondo me alla Fiorentina servirebbe di più un giocatore alla duanzapata alla pionte che un giocatore alto grosso che ti possa far salire la squadra che possa sfruttare al meglio questi giovani che crossano di continuo però in mezzo ma non trovano nessuno chi c'è in mezzo a colpire di testa non c'è nessuno quindi secondo me la Fiorentina se avesse un giocatore alla duanzapata bello grosso in attacco sarebbe secondo me in tutt'altra zona di classifica se lo meriterebbe per la squadra che ha che è una squadra giovanissima 23 anni ha di ragazzi di età media fantastico veramente mi piace mi piace tanto mi dispiace per loro che oggi hanno perso però sono stracontento ovviamente del mio Parma perché ragazzi sfruttare il ciolismo al 100% del cinismo puro del contropiede del catenaccio del saper soffrire appunto senza subire proprio contro il figlio di Simeone cioè che volete di più ma che volete di più non si può non essere contentissimi voto 10 praticamente a Jonathan Biabiani è tornato finalmente il Biabiani di una volta era ora porca misera Biabiani partitone incredibile ogni volta che toccava palla veniva ammonito un difensore della squadra avversaria addirittura è stato anche espulso Vitor Hugo grazie a lui quindi che altro dire grande partita del Biabiani sono stracontento per lui perché se lo merita spero appunto che possa tornare anche Gervigno finalmente in forma oggi è entrato negli ultimi minuti appunto per far rifiatare Siligardi anche lui ottima prestazione molto bene anche inglese non soltanto per i gol ma anche per il fatto di far salire la squadra insomma oggi bene tutti sebbene fossimo senza Bruno Alves che è appunto il nostro capitano sebbene fossimo con alcuni alcuni turn over appunto come Stulac come appunto lo stesso Biabiani e Siligardi del posto di Gervigno insomma ragazzi siamo a 25 punti manca una sola partita dal girone per finire il girone di andata e io non so cosa dire finché il Parma gioca così e sa di giocare così io non ho oggettivi io sono stracontento mi diverto un sacco a guardare le partite se poi dopo il Parma torno a giocare come le partite contro il Bologna ad esempio o contro la Sampdoria e ovviamente lì mi incazzo però ragazzi non pensavo veramente di riuscire a vincere oggi e sono stracontento il più bel regalo di Natale che mi potessero fare sono veramente stracontento unica cosa ragazzi chiedo scusa a tutti i tifosi della Fiorentina per alcune perdite di tempo che assolutamente non mi sono piaciute come ad esempio Bastoni in mezzo all'aria che dice di aver di essere stato colpito di testa in realtà ha preso tanto una pallonata o Scozzarella che gli fa male la testa poi in realtà si è dovuto fermare per un problema fisico vi chiedo scusa per questo e secondo me ci sono stati anche un paio di errori dell'arbitro ad esempio quando c'è stato il fallo la trattenuta di De Iola su Veretout secondo me l'arbitro doveva lasciar correre l'azione ad esempio in quell'occasione è stato un errore mentre assolutamente il calcio di rigore sul fallo di Bastoni Bastoni porca misera la prossima volta che tocchi la palla con le mani te le tagliamo quelle cacchio di mani è veramente assurdo però secondo me non c'era assolutamente il calcio di rigore perché il pallone appunto aveva il braccio attaccato al corpo quindi assolutamente quello non è rigore complimenti alla Fiorentina complimenti ancora di più al mio Parma forza ragazzi siamo quasi lì meno 15 punti e ci salviamo daie cazzo daie